Allora, i gisgommatici riportano di forza il rapporto tra CGL e Partito Democratico, no? Torniamo allora all'ipotesi di un mancato accordo, la vostra sarebbe una reazione dura di protesta, lo fa intuire anche lo sciopero proclamato dai metalmeccanici il 9 marzo. In questo caso, cosa vi aspettate in Parlamento, da quella parte di maggioranza più vicina al sindacato, cioè dal PD, dopo che anche Veltrone ha detto che per il PD non ha senso partecipare allo sciopero dei metalmeccanici? Guardi, io trovo che anche qui si facciano delle strane costruzioni. I metalmeccanici hanno dichiarato lo sciopero perché hanno un rinnovo del contratto aperto, non vengono convocati per fare il confronto. C'è una grande azienda di questo Paese che non richiama il lavoro dalla Cassa Integrazione dei lavoratori perché hanno in tasca la tessera della FIOM. Si è deciso una modalità ignota nel nostro Paese che è l'impresa che decide che sindacati ci siano in un'azienda invece di essere i lavoratori. Mi pare che ci hanno tante ragioni per fare questo sciopero e che forse chi tiene la democrazia e la libertà di questo Paese dovrebbe essere quantomeno solidale con quella iniziativa.